Ma non manca né... Nel periodo di detenzione l'uomo aveva riacquistato la libertà anche se con obbligo di soggiorno e di rientro nella sua abitazione. Nonostante queste restrizioni però aveva messo in piedi una fiorente attività di spaccio che gli fruttava anche 2.500 euro al giorno vendendo una quarantina di dosi. Il luogo scelto per la sua attività non era casuale in quanto ben consapevole di avere gli occhi della questura addosso ha pensato che il CERT fosse un luogo che poteva controllare accorgendosi dei movimenti della polizia e che non dava nell'occhio per il fatto che lui si trovasse lì assieme ad altri tossicodipendenti. Ma gli uomini della mobile di Pesero però sono stati abili negli appostamenti e dopo poco è stato colto in flagrante con 16 dosi addosso e così l'hanno arrestato all'interno dei locali. La bravura degli investigatori è stata proprio questo, dal modus operandi, quindi sembrava strano che uno che frequentasse il CERT poi utilizzasse il personale che si serviva del CERT per spacciare, quindi sarebbe passata come un fatto normale. Invece l'intelligenza, l'acume investigativo degli operatori ha portato a questo risultato credo brillante perché parliamo di cocaina, di eroina, di hashish e anche di marijuana, di piantine di marijuana. E' un personaggio di spicco nell'ambito del panorama degli spacciatori? Un personaggio importante perché aveva il suo tesoretto, lo aveva a casa, dove era chiaramente blindato nel suo fortino perché i suoi preziosi gioielli li teneva ben nascosti, quindi aveva una video sorveglianza con porte blindate eccetera. Anche in questo la bravura della Polizia di Stato e della squadra mobile è stata vincente. A testimonianza del fatto che forse un elemento di spicco nel mondo dello spaccio di stupefacenti e vero punto di riferimento dei consumatori abituali di droga, la perquisizione nell'appartamento dello spacciatore ha portato alla scoperta di un tesoretto abilmente occultato ma che non è sfuggito agli occhi degli agenti di polizia. 4 grammi di eroina, 170 grammi di cocaina, 125 di hashish, marijuana, bilancini di precisione, ovuli e ben 1000 euro in contanti. Ogni tipologia di stupefacente è stata trovata a casa sua. Ora il 47enne convalidato all'arresto si trova nel carcere di Villa Fastigi in attesa del processo. Inoltre il suo pedinamento ha permesso agli uomini della mobile di Pesero di scoprire una piantagione abusiva di marijuana nel giardino di casa di un suo conoscente. Dieci piantine dell'altezza di 1,80 m che sono state sequestrate. L'uomo, un 55enne pesarese, è stato denunciato in stato di libertà per coltivazione abusiva di cannabis.